Il Corigliano torna a vincere e a convincere riprendendo quote in classifica. Messo alle spalle il periodo grigio, la squadra di Mister De Feo può festeggiare nella 24esima d'eccellenza un'ottima prestazione e il successo in campionato numero 19. Vantaggio sulla diretta inseguitrice Regiomed che resta sempre di più quattro unità ma con i biancazzurri con una gara da recuperare contro il Sersale il prossimo 13 marzo. Buone nuove anche per il ritorno al gol di Bomber Piemontese del ritorno in campo del difensore Cassaro. Organico al completo ma con qualche acciaccato da recuperare in vista del ritorno di Coppa in Sicilia di mercoledì prossimo e della trasferta di Soriano di domenica 10. Di contro bene il Trebisacce che sciupa una palla a gol sullo 0-0 e che nella ripresa contiene gli assalti locali puntando su qualche altra trama ma senza incidere. Passando alla cronaca il primo squillo e dei padroni di casa al 13esimo con Cosenza chiuso tempestivamente dal portiere Andreoli. Al 20esimo in cornata di Piemontese di poco alta sulla traversa. Al 22esimo ci prova Giovanni Foderaro ma l'estremo ospite blocca. Al 23esimo Trebisacce pericoloso. Un tiro pallonetto di Orlando dalla sinistra impegna il portiere d'Aquino che le spinge la sfera. Gueye ben appostato da pochi passi. Spara di poco sul fondo. Gol mancato col subito e al 25esimo Coriglianese in vantaggio. Assiste al bacio dalla destra di Isgro per la girata vincente di testa di Giovanni Foderaro. Per il Trebisaccesi al 31esimo la risposta sta in un'inzuccata di Gueye finita fuori. Sull'altro fronte al 40esimo stessa sorte anche per Piemontese che però al 43esimo raddoppia. Servito da Giovanni Foderaro il numero 9 a Biancazzurro arpiona la sfera, la difende, lude la marcatura e piazza la sfera in rete. Spostandoci alla ripresa con immagini e montaggio di Chiara Fusaro al quinto la soluzione di Naglieri trova d'Aquino abile nella rispinta in tuffo. All'ottavo conclusione centrale di Isgro ma Andreoli alza la traiettoria sopra la traversa. Al dodicesimo tocca a Biondo ma il portiere ospite para in due tempi. Al 24esimo gran conclusione del neo entrato Bezziccheri ma la palla termina sul fondo. Al 26esimo si fa vivo il Trebisacce ancora con Naglieri di testa ma da Quino devia in corner. Al 33esimo incursione di Cosenza che reclama un rigore per un contatto in aria. Ultimo sussulto ancora di Piemontese al 39esimo ma la palla si spegne di poco a lato. Dopo quattro minuti di recupero tra gli applausi del pubblico Biancazzurri festanti sotto le gradinate per il consueto abbraccio di fine gara con i tifosi. Dalle prossime ore testa e gambe invece per il return match di Coppa Italia e direttanti nazionale che vedrà mercoledì 6 marzo il Corigliano di scena Ravanusa contro il caricatì per centrare dopo il 2-2 dell'andata l'impresa della qualificazione in quarti.